E allora il governo presenterà nel prossimo Consiglio di Ministri la candidatura di Lampedusa al Nobel della Pace. Infine, dato che voi sapete che io sono solo prestato alla politica, ma sono un imprenditore, cioè una persona concreta, mi sono ieri mattina domandato, ma incontrando i lampedusani, come posso io dargli la sicurezza che tutti i piani che annuncerò saranno davvero trasformati in realizzazioni concrete? Mi sono detto che devo diventare lampedusano anch'io. Mi sono attaccato a internet, ho scovato una casa bellissima di fronte alla costa francese, a cala francese, si chiama Due Palme e l'ho comperata. Quindi adesso avete nel governo un interlocutore assolutamente interessato. Domani sui giornali della sinistra leggerete, conflitto di interessi. Ancora una volta Berlusconi cura gli interessi suoi. Benissimo, cureremo i nostri interessi. Ci sono anche altre opere che dovremo discutere. Il Comune ha avanzato anche l'ipotesi della realizzazione di un golf. Su questo oggi non prendiamo l'impegno, ma saremo aperti a discuterne e a chiamare qui alle cose. Hanno chiesto anche la realizzazione di una nuova scuola, anche di questo siamo aperti a discuterne. E' chiaro che oggi non sono in grado di prendere impegno per queste due iniziative, ma le discuteremo a fondo. Grazie a tutti, restiamo qui. Adesso non cominci perché vi si data... non è possibile. Ne parliamo in un'altra occasione. Lei sa giocare a scopa, la invito a giocare a scopa e parleremo della nave.